Raffica di truffe con contratti per l'energia elettrica dietro le quali agiva una vera e propria società, tra le vittime anche alcune decine di aretini. A smascherare i truffatori sono stati i carabinieri del Valdarno. Dopo le indagini condotte dai militari delle stazioni di San Giovanni Valdarno e Levane sono giunti a termine anche gli accertamenti di quelli della stazione di Montevarchi. Il fenomeno infatti aveva colpito la vallata dalla metà dello scorso anno. A San Giovanni erano state circa 65 le vittime mentre una decina di denunce erano state raccolte dalla stazione di Levane. Nel primo caso sono stati identificati i tre autori mentre nel secondo sono state quattro le persone identificate delle quali una già era stata denunciata dai carabinieri di San Giovanni. Nel caso di Montevarchi invece sono state sette le persone deferite in stato di libertà anche se quattro coincidevano con quelle già identificate dagli altri comandi. Gli autori delle truffe sono in parte riconducibili all'area napoletana in parte invece sono formalmente residenti in varie località italiane tra gli stranieri. Dalle indagini è emerso che i denunciati avevano carpito i dati sensibili delle ignare vittime tra i quali anche il numero del contatore per poi sottoscrivere falsamente dei contratti con una famosa società di energie elettriche e distribuzione del gas. Le vittime dopo poco tempo dalla sottoscrizione del contratto si erano viste recapitare il recesso del precedente operatore e la nuova bolletta mentre nulla era stato da loro richiesto. Dietro gli autori ci sarebbe una società del napoletano con titolare una donna identificata e denunciata in stato di libertà. Sarebbe stata proprio lei ad utilizzare la collaborazione sul territorio degli altri sei denunciati. I reati contestati vanno dalla violazione del codice in materia dei dati personali alla truffa continuata e alla sostituzione di persona.